Un piatto che racchiude la filosofia di Milano Verticale che è quella di non mentire ai propri clienti. Servito sul profilo del mio viso perché ci metto la faccia. All'interno un classico spaghetto pomodoro proprio perché sono quei piatti che non possono mentire. O sono buoni o non sono buoni. Grazie per la visione!